Ciao Sparappallini, io sono Rico e questi sono nuovi pacchi da aprire. Ormai con tutti sti pacchi vi sto un po' viziando. Prova, 1, 2, 3, prova. Ammetto che questo cappello decontestualizzato dalla sua setup sembra molto cappello del pescatore o del rapper old school. In realtà questo è un Jungle Spectre della Sod, uno dei migliori cappelli Jungle in circolazione con un sistema di areazione, retina in fibra d'argento e tutte queste cose qua. È comodissimo e vi mimetizza molto bene quando siete in campo. E oggi mi va di metterlo perché va così. Tra tutti i prodotti che vedrete in questo video unboxing, Midland è senza dubbio il protagonista assoluto, tant'è che ci ha mandato un sacco di roba, o meglio, più che mandato la sono proprio andata io a ritirare personalmente in sede perché c'è stato poche settimane fa un evento influencer dove ci hanno invitato per andare a vedere l'azienda, parlare direttamente con chi lavora all'interno per conoscere tanti piccoli tecnicismi. Ho dato anche un mio contributo a livello di feedback, di prodotti da poter sistemare, migliorare, anche alcune cose raccolte da voi nell'arco degli anni. Quindi cerchiamo di magari collaborare per tirar fuori dei prodotti ancora più performanti, ancora più adatti a noi giocatori di softair. Ma non perdiamo i scinghieggere e abriamo subito questo pacchietto. con tanto di ricco con cuoricino. Questo era tipo il welcome kit appena siamo arrivati con tutta una serie di gadget di Midland. Allora, me sti nastrini mi fanno salire il porco del... Allora, ok. Troviamo il catalogo 2022 e in copertina c'è Camilla che è una ragazza che ho conosciuto direttamente all'evento che fa un sacco di cose tipo sport, anche a livello agonistico, è in gamba, diciamo che è bella strong. Questo poi è tipo un mega giaccone. Taglia L. Io Midland vi ringrazio, molto gentili. Pensavate che io portassi una taglia L, ma sono più secco di un chiodo. Infatti mi sta tipo sette volte. Sicuramente è fatto molto bene. È anche particolarmente pesante. Non avevo mai visto dei gadget fatti a cappotto. Di solito danno le magliettine o delle felpe. Poi non è finita perché c'è ancora una cosa. Ecco appunto, taglia L anche questa. Anche qua ci stanno tipo due rico, però è molto bella pure questa. C'è la ricerca del dettaglio. Vedete anche solo l'interno del cappuccio che è tutto traforato con questo tessutino un po' tecnico. Poi non è finita perché abbiamo un quadrato di tessuto. Non è un quadrato, sono cinque quadrati di tessuto. Sono degli scaldacollo ovviamente. Tra l'altro io questi quali utilizzo molto perché sono particolarmente versatili e non fanno neanche sudare più di tanto. Quindi averne un po' di scorta male non fa. Poi, no, io non so quanti ne ho di sti cosi. Ho tipo una scatola piena di questi porta badge che tipo li danno a qualunque tipo di evento. E adesso per compensare il fatto che non li ho mai messi questo lo terrò per tutta la durata del video al collo. Poi abbiamo dei braccialettini in silicone e questo lo indossiamo, degli sticker e questo. Anche di questi ne ho tanti. Però devo dire che è molto carino. Il classico termos in acciaio per tenere l'acqua fresca o calda in base alla stagione. Ok, e questo è andato. Qui dentro invece ci sono le cose sostanziose. Oh, guardamo qua. È inutile che faccia tanto il sorpreso perché tutto quello che c'è qui dentro so benissimo che cos'è perché sono prodotti che ho accuratamente selezionato in azienda dopo aver capito appunto bene i prodotti nel dettaglio. Partiamo dagli accessori. Questo qui è un kit di programmazione che vi permette di andare a sbloccare alcune radio dai 3 ai 5 watt da quello che ho capito e forse vi permette di fare anche altre cose. Questo qui è il cavetto usb con il quale connettete la radio al computer e invece questa è la chiavettina che contiene il software per andare appunto a fare questo tipo di programmazione. Poi qua, se non sbaglio, mi hanno messo anche le istruzioni. Infatti qua ci sono tutte le procedure per l'estensione di banda dei vari modelli che mi hanno lasciato. È tutto molto schematico e dettagliato diciamo che se siete un minimo smanettoni riuscite a farlo tranquillamente. Poi abbiamo uno speaker con microfono tutt'uno che diciamo può essere utile se state facendo gli arbitri o se dovete fare qualcosa di non troppo impegnativo e non volete avere niente nelle orecchie. Questo qua è comodo perché ve lo agganciate qua e potete parlare e sentire attraverso lo speaker. Poi abbiamo l'MA21 Secure TX che è la versione aggiornata del classico auricolare Midland quello con la cuffiettina e l'archetto. Questo nonostante sia un classicone non l'ho mai testato fino in fondo. Poi abbiamo l'MA31 L Pro un altro auricolare molto utilizzato sia nel software ma anche al di fuori per gli eventi diciamo dai buttafuori. Questo ad alcuni può dare un po' di fastidio proprio per il fatto che si va un po' di incastrare all'interno però ha il vantaggio che si sente molto bene e lo svantaggio di conseguenza che tende un po' a sigillare l'orecchio quindi vi ovatta un po' i suoni che derivano appunto dal lato in cui lo mettete. E gli accessori sono fatti. Questa qui che è la CT590S un Dual Bender VHF-UHF questo qui è da utilizzare se avete il patentino perché ha una potenza decisamente molto elevata e un raggio di copertura a livello di frequenze che non ha niente a che vedere con le classiche radio quindi diciamo che è quel passettino superiore che si può fare appunto una volta svolto il patentino. Poi vi faccio vedere questa mi viene da sorridere perché l'ho presa attraverso quei giochi dove c'è il braccio meccanico che scende giù e pinza le cose che di solito non pinza mai niente e io e un'altra ragazza abbiamo avuto il culo di riuscire a prendere due oggetti perché questo qua tra l'altro era abbastanza leggero e il gancetto si è tipo incastrato qua dentro quindi l'ha portato via. Ed è praticamente una videocamera 360 con attacco USB di tipo C da connettere direttamente al telefono io però nel mio telefono non ho la porta USB di tipo C perché ho l'iPhone quindi magari la regalerò a qualcuno vedremo. Abbiamo poi la Midland G7 Pro White Storm questa è nuova in casa Midland o meglio la G7 Pro c'è già da un po' di tempo però non in questa colorazione che è molto particolare. La G7 Pro è una delle radio più utilizzate da noi giocatori quindi inutile che sia dirvi troppe cose comunque di ognuna di queste radio poi troverete degli approfondimenti che andrò a mettere su Instagram tramite i reel, le storie e su alcune magari andremo a fare anche dei video un po' più corposi qua su YouTube. Qui c'è la G11 Pro questo è uno dei prodotti di punta di Midland non tanto per il fatto che costa molto ma perché è una tra le più vendute tra le più perfezionate nel corso del tempo ed è anche molto resistente ha svariate funzioni diciamo che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Poi arriviamo alla G18 Pro questa sì che è il prodotto di punta di Midland in tutto e per tutto con tanto di certificazione militare infatti questa è resistente alle cadute alla pioggia, alla polvere, al fango insomma la potete trattare malissimo quando la prendete lanciatela giù dai dici vabbè sto scherzando però è veramente prestante questa è diciamo il top della categoria senza dover utilizzare il patentino che potete prendere per poter giocare a software con diciamo tutta una serie di funzioni molto più elevate rispetto a quello che può essere una G7 o una G9 è proprio un'altra categoria tra l'altro il caso vuole che l'abbiano chiamata proprio G18 come la penso pistola più utilizzata nel software e per finire mi sono fatto dare questo prodotto qua se ve lo faccio vedere così capite che cosa possa essere? beh ve lo dico io questa qui è una lampada UV per la sterilizzazione di eventuali batteri virus, tutte le merdate che possiamo trovare sulle superfici inizialmente era un po' titubante ne avevo già viste anche delle altre ma pensavo fossero un po' quegli specchietti per le allodole cioè quei prodotti che ti dicono guarda fa queste cose e costa solo 2 euro poi però mi sono andato a documentare effettivamente su internet e mi sono fatto anche spiegare direttamente dai tecnici di Midland se questa roba effettivamente funzionasse ed è così cioè questo tipo di frequenza di luce ultravioletta è in grado di danneggiare gravemente al tipo 99% la struttura proprio dei batteri e degli eventuali virus che ci sono sulle superfici tant'è che mi dicevano che questo tipo di luci viene pure utilizzata come fonte proprio di luce in certi ambienti per mantenere sempre tutto sterilizzato e io queste cose qua non le sapevo tra l'altro sta roba qua costa pochissimo non mi ricordo se è tipo 10 o 15 euro ecco come si presenta quindi la accendiamo così purtroppo non riesco a farvela vedere perché la batteria è scarica comunque ha il vantaggio di avere qua la porta USB di tipo C quindi super smart e senza bisogno di doverci inserire delle batterie ogni volta e anche questo è andato mini pacchettino da Amazon perché io compro sempre delle cose questa è una penna stilografica della Parker perché mi ero rotto un po' le balle di quelle penne a sfera che bisogna spingere ogni tanto il tratto non viene bene invece queste qua hanno un tratto molto più fluido si riesce a scrivere senza stancare troppo il polso io scrivo molto quando progetto i video quando mi voglio prendere degli appunti faccio sempre tutto su carta mi viene molto più naturale e riesco a organizzare meglio le cose e volevo farlo con un tocco in più poi c'è un pacchettino che arriva da... non si è scritto qui dentro non so proprio cosa ci possa essere sono dei prodotti della Quadlock con tutta la roba che gli ho comprato mi dovrebbero fare da sponsor ho preso la fascia da braccio per quando vado magari fuori d'estate a correre e non voglio avere il telefono che sballonzola in tasca ed è anche molto comodo da fissare sullo spallaccio dello zaino per quando si fanno le escursioni questo qua che è un'antivibrazione per quando si va in bici su terreni un po' sconnessi lo si monta sopra al supporto per lo smartphone per far sì appunto che il telefono non vibri troppo questo è pensato per le moto infatti non so se ha avuto senso prenderlo per la bici però nel dubbio ce l'abbiamo e infine ho preso questo anellino in acciaio molto resistente che si aggancia sempre sulle cover Quadlock che non ha niente a che vedere con quelle cagate low cost che si appiccicano con la ventosa o con gli adesivi al quale poi volevo collegarci un cordino in paracord da fissare sul tattico durante la partita o volendo anche sullo zaino mentre faccio delle escursioni in montagna questo per far sì che se vi dovesse cadere non finisce giù nella scarpata o comunque anche solo non vi cade per terra perché se piglia una roccia poi sono cazzi amari poi altra bustina di Amazon questi sono la cosa più utile del pianeta questi qua sono i bongo ties sono praticamente degli elastici molto resistenti con questo pezzettino in legno che permette appunto una legatura molto veloce e al contempo vi tiene molto stretto l'oggetto che avete chiuso tipo matasse di cavi, accessori anche robe all'interno del nostro setup in modo tale che stiano ben fissate ma con un semplice gesto lo potete diciamo sganciare e aprire questa è una di quelle cose che tipo nella vita serve sempre per qualunque cosa anche nell'ambito del videomaking si usano molto infatti ne sto usando proprio uno adesso per tenere su un powerbank nel mega microfono che ho qua sopra penultimo pacchetto questi qua sono dei prodotti che sono andato a ritirare al Decathlon a volte capita che andate dentro al negozio andate lì per una cosa e quella cosa non ce l'hanno allora ho fatto un ordine e ci ho messo dentro anche altre cose che probabilmente avevano ma già che ero lì ho fatto un tutt'uno partiamo da questa che è una corda doppia dinamica per l'arrampicata e le ferrate insomma per la montagna in alta quota questa si aggancia all'imbrago e poi ha due corde una più lunga e una più corta e questo vi permette di fare delle manovre con molta più facilità comunque è roba un po' tecnica per chi è del settore chi arrampica o comunque chi va in montagna forse conosce sta roba comunque se mi seguite su Instagram metto sempre le storie di quando vado fuori a fare queste spedizioni in alta montagna poi abbiamo una e due bombole di gas queste le utilizzo per il mio fornellino da campeggio che porto dietro sempre ogni volta che vado in montagna per farmi un bel pasto caldo e le prendo sempre piccoline perché tanto le mie uscite sono massimo di due tre giorni e con queste ci state dentro alla grande poi abbiamo una confezione di grasso per la cura della pelle degli scarponi io praticamente tutte le scarpe che ho tra il soft air e la montagna hanno quasi tutte degli inserti o sono interamente fatte in pelle Nabuc e chiaramente questo grasso serve un po' per tenerlo ammorbidito e ben idratato per far sì che non si secchi e che perda magari anche la sua capacità idrorepellente poi ho preso dei cerottini per le vesciche da non confondere però con i compid che quelli vanno messi quando la vescica è già venuta fuori questi servono per andare a prevenire la vescica quindi li mettete in quei punti tattici dove sapete che la pelle si irrita magari non sempre viene la vescica però è fastidioso quando la pelle si arrossa molto e quindi questo diciamo che va ad attenuare un po' la cosa a voi sembrerà tutto normale ma da quello che avete visto due secondi fa da adesso sono passati tre giorni questo perché mi sono reso conto che l'ultimo file della videocamera era corrotto non funzionava, non si poteva più aprire quindi ho perso praticamente tutta l'ultima parte del video che adesso rifacciamo e per maniacalità mia ho ricreato tutto pressoché identico a come era prima la cosa bella è che è arrivato anche un altro pacco abbiamo uno e due lacci quick si tratta di lacci a sgancio rapido su alcuni modelli di scarpe da trekking questi sono già di default montati sulla scarpa poi ho visto che Ketchup ha fatto questi modelli stand alone ne ho anche un altro paio di questi che ho già montato sulle scarpe e siccome mi trovo talmente bene ho pensato di convertire praticamente tutte le mie scarpe con questi lacci e per finire ho preso una cosa che non è che proprio mi servisse però ho detto sai che ti dico mi piace così tanto che la prendo e al contempo è talmente resistente che mi durerà la vita quindi è comunque un buon acquisto non so più cosa dire per giustificare l'acquisto si tratta di una bellissima tazza in acciaio con questo color grigio verde che io amo alla follia bella massiccia termica quindi tiene bene le cose calde o fredde che siano e poi c'è anche questo tappo con il foro che è perfetto per non ustionarsi le labbra quando si bevono i tè bullenti in alta montagna ok pacchetto Decathlon finito penultimo pacco che bello io non so se così facendo avete capito qualcosa vi dico solo che era da un sacco di tempo che cercavo questo tipo di prodotto e ogni volta non lo trovavo mai da nessuna parte poi grazie ad una sponsorizzata di Facebook e poi dicono che la pubblicità non serve a una mazza ho scoperto questo fantastico brand nemmeno loro mi danno una lira quindi ci tengo proprio io a mostrarvi ste cose perché mi piacciono un casino come prima cosa abbiamo la farina di grillo non vedo l'ora di assaggiarla perché io sono uno che ama provare cibi di tutti i tipi e l'idea di una farina fatta con i grilli essiccati mi ispira un sacco anche perché dicono abbia un buon sapore e al contempo è molto nutriente in realtà i loro prodotti di punta sono i cracker fatti con la farina di grillo e ne ho prese tre scatole con gusti diversi questi sono altimo e rosmarino, pomodoro e origano e infine curcuma e paprika non vedo l'ora di assaggiarli a parte che le grafiche sono bellissime e devo fare i complimenti a chi le ha realizzate un po' di ASMR beh l'odore è normalissimo sembra proprio di annusare dei cracker al rosmarino è arrivato il momento di assaggiarli però pensare che qui dentro ci siano decine di grilli fa un po' strano se vi mettono una benda e vi dicono ora ti darò un cracker al rosmarino non direste assolutamente nulla sia le sapore che la consistenza rimandano proprio a una classica farina sono un pelo più saporiti però è impressionante come un grillo possa essere così simile a del grano è strana sta cosa molto buoni effettivamente l'avevano detto che assomigliavano tanto a dei cracker poi con questa ci faremo le grandi ricette ed ora arriviamo all'ultimo pacco del video il più grande vi prego di non giudicarmi per questo uno e due chi è veterano e segue tutti gli unboxing e mi segue anche su Instagram saprà della mia folle passione per i Lego della serie Lego City non avevo ancora preso nulla perché non mi ispirava nulla ma questo treno in particolare era da un po' che l'avevo addocchiato sempre stato un po' affascinato dai trenini anche da piccolo vedevo questi modellini che viaggiavano da soli sulle rotaie quindi ho detto dai quasi quasi lo prendo anche perché era in super mega offerta su Amazon costava tipo 60 euro in meno rispetto al listino Lego quindi ne ho presi due uno lo terrò chiuso e uno lo monterò questa è un po' una mia fissa e una fissa di tanti altri collezionisti poi se nel tempo acquisirà valore magari lo rivendo o al massimo lo tengo lì che tanto io sono un collezionista di quelli saganati e va bene così detto questo io vi saluto e vi ringrazio se avete avuto la pazienza di guardarvi tutto questo video non mi resta che salutarvi e come al solito noi ci vediamo prossimo lunedì alle 18 sempre qui sul canale con un nuovo video ciao 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 ciao